Benvenuti su ClaudioMasci.com Si avvicina il World Backup Day del 2022 e Aomei ha deciso di regalare ai suoi tenti una licenza gratuita per alcuni programmi La licenza gratuita è possibile riscattarla da adesso quindi da oggi fino al 31 marzo quindi è possibile riscattare in qualsiasi giorno una di queste licenze La prima riguarda Aomei Backupper un software per il backup dei file su Windows Il secondo Aomei M Backupper funziona sempre su Windows quindi tutti questi software sono per Windows ma questo permette di effettuare il backup dell'iPhone, dell'iPad e dell'iPod C Backup che permette di effettuare un backup sia dei dati presenti sul PC sia quelli presenti sul Cloud in questo caso tutto salvato in Cloud e ultimo Data Recovery Assistant per iOS quindi un software che permette di recuperare i dati da un dispositivo dati persi o cancellati da un dispositivo iOS è possibile quindi riscattare uno o anche tutti i software semplicemente collegandosi a questa pagina che troverete sul mio sito web quindi se il video lo state guardando da YouTube andate in descrizione, link articolo e lì troverete il link a questa pagina da qui vi basterà cliccare sul tasto Get It Now per scaricare un file zip con all'interno il file di installazione del programma e un file di testo con all'interno la licenza il codice di licenza da inserire per registrare il programma tutti i programmi sono... tutte le licenze sono valide per un anno quindi il programma vi verrà attivato per un anno per concludere una piccola nota riguardo proprio al World Backup Day per chi non lo conoscesse è stato lanciato nel 2011 quindi sono già 11 anni era stato lanciato per gioco perché è partito da una discussione su Reddit nel quale si parlava di un utente che aveva perso i suoi dati quindi per gioco uno studente aveva scelto questa data il 31 marzo come data per ricordarsi di effettuare il backup quindi come rimando annuale all'effettuare il backup quindi a salvare, a proteggere i propri dati e da allora è stata presa da tutto il mondo come data ufficiale per ricordarsi quindi per ricordare agli utenti l'importanza di effettuare il backup per non perdere dati sensibili quindi dati importanti quindi il World Backup Day ricorre ogni anno il 31 marzo e come detto per questo 2022 Aumei ha deciso di regalare questi 4 software che potete riscattare gratuitamente fino appunto al 31 marzo fino alla mezzanotte del 31 marzo se il video ti è piaciuto metti like in questo modo mi aiuta a capire quali sono i video che vi interessano maggiormente inoltre se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale e attiva la campanella in questo modo non perderai tutti i miei prossimi video ti ringrazio per aver visto il video fino alla fine come sempre per qualsiasi dubbio, domanda o suggerimento scrivimi nei commenti e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao